Ora fare impresa è anche online. Digita fareimpresa.info Confartigianato condivide il patto per il Veneto firmato con la Regione con l'obiettivo di rilanciare il sistema produttivo e l'occupazione. Vi sono incluse misure per il sostegno ai confidi, incentivi per l'ingresso dei giovani nel mondo del lavoro, per l'imprenditoria femminile e giovanile. Ora l'auspicio è che il frutto di una concertazione che ha coinvolto le categorie economiche e le forze politiche venete non sia reso vano dai vincoli del patto di stabilità.